Signori cari benvenuti sul mio canale che piacere pazzi di vedervi un'altra volta qua Buonasera Giovanni dove stai andando? Veramente starei tornando a casa in questo istante Embed si iscritta al canale innanzitutto? No ma guarda che io e te siamo la stessa persona c'è un canale che fossi tutti... Allora fallo e attiva la campanella e mi raccomando perché è una cosa importantissima e si potrà si cadende senza questa peculiarità e non può fare No ma se ci fai cadende pure la stessa camisa, cioè proprio la giacca è diversa perché mo sono venuto dalla porta però siamo proprio vestiti uguali proprio di denti No a dire il vero io stavo qui la volta scorsa e tu eri dall'altra parte della stanza che stavi facendo quello che stava all'interno del baby motor non so se te lo ricorda Ma me lo fa ricordare? Quello è stato uno dei momenti più brutti e traumatici della mia vita quindi ecco appunto se non te lo ricordi adesso metterò il link qua in alto Ecco appunto che proprio non farmelo ricordare Cliccateci sopra tu potrai andare a vedere tutto quello che è successo Bene, molto bene Sì ma buono ma da ogni modo che stai facendo? Cioè da ogni modo che stai là dietro e entriamo insieme sei pericoloso ma mi fai mettere paura? Che vuoi far vedere oggi? Ma qual'altro amico? Qual'altro amico? Vieni qua, vieni, vieni, siediti qua a fianco a me che ti voglio far vedere la possibilità di pagare un prodotto tramite amazon a rate Cioè tu non paghi tutti insieme per pagare in 5 o i 12 come a rate con tutta comodità, tasso 0, interesse 0, non c'è manco bisogno della carta di credito Il solito peruccio, vuoi fare il perocchiamma, le cose da sparagno? Ah, uapiroccio! Allora, innanzitutto vieni qua, siediti a fianco a me ti faccio vedere un pochettino come funzionano queste cose Però ma raccomando, non fa burdello Vabbè, 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 vediamo un pochettino che si tratta Perfetto, in pratica tutto questo ambaradano l'ho fatto perché mi è sempre avuto un grip di andare a vedere un pochettino Amazon come funziona nei minimi particolari perché chiaramente essendo un colosso, diciamo, dell'e-commerce e siccome ci sta un aggeggino che guardate quanto è bello mi piace veramente tanto è questo orologio da Tommy Hilfiger che sta a uno sconto terribile, è veramente un prodotto ottimo mi piace tantissimo, guardate il logo quanto è bello veramente bello, bello, bello quindi, siccome chiaramente me lo potrei comprare tranquillamente a questo prezzo e se non ci riesco a così faccio perché non lo voglio far scappare quindi voi praticamente mi puoi comprare tutto quello che voglio e paghiamo poca volta prendiamoci tutto Amazon proprio dall'inizio alla fine Altrice, hai fatto due a stare sulla sendi basta, non devi parlare ma vuoi farvi parlare sempre tu? Vediamo un pochettino se volessimo pagare a rate come funziona e quali sono i termini entre i quali andarlo a fare come vedete è scritto stesso nella pagina dell'orologio che si può pagare o tutto di una botta a 72,76 euro o in 5 comoderate da 14,56 quindi 14,56 per 5 fa 72,80 euro ma fa uscita 4 centesima coppia ad ogni modo, se volessi fare in questa cosa clicchiamo qui no, sì qui in questo modo aggiungiamolo al carrello ah io comunque vi volevo ricordare che ci sta ancora Gamesco che è questa applicazione troppo bella che vi fa risparmiare su Netflix, Spotify su tantissime cose io come al solito vi metto il link giù giù in descrizione cliccateci sopra iniziate a risparmiare su tutte le piattaforme che utilizzate sicuramente andiamo nel carrello chiaramente la quantità è una quindi c'è chiacchiano chiacchiano quindi ma concettualmente basterebbe andare a schiacciare su acquista ora e il gioco è fatto anche se io non capisco in realtà posso metterci un buono regalo cioè praticamente qui ci mettere il codice ma in realtà vorrei capire se quelli che già io ho nel mio account posso utilizzarli siccome io me li guadagno differentemente da te ma ora facciamo anche i contributi mi fanno meglio ando pure a nero anche perché poi sai come potrei fare tante cose giusto così te lo dico giusto perché in questo caso dobbiamo utilizzare per forza i soldi presenti sulla post pay nel mio caso insomma la post pay quindi una carta di debito andiamo a fare l'acquisto effettivamente come vedete nei miei ordini esce scritto acquistato con pagamento a rate mensili bene ora in realtà non mi resta che aspettare tenetevi aggiornati se effettivamente esce sull'applicazione della post pay questa prima rata contabilizzata che poi per dirla tutta in realtà non tutti hanno la possibilità di comprare a rate il profilo deve avere alcune caratteristiche e i prodotti devono essere sotto alcune caratteristiche che trovate sotto i termini e le condizioni per poter effettuare il pagamento in 5 o in 12 rate ad amazon ma posso dire qualcosa io c'ho una parte in particolare per me oppure già sta accadendo ma ci sa il secondo che parla un scioglilingua però praticamente dice che ogni prodotto deve far parte di una categoria cioè non potete prendere 2 fotocamere ma potete prendere una fotocamera soltanto o comunque al massimo 3 della sottocategoria per esempio dell'elettronica inoltre l'account come ho detto deve rispettare alcuni requisiti come ad esempio la possibilità di avere una scheda che non scade nei 20 giorni successivi essere residenti in Italia e leggevo qui che la prima data alla quale mi verrà debitato il costo è quella appunto quando verrà spedito il prodotto e poi dopo questa data ogni 30 giorni verrà addebitato sulla mia carta il costo di ogni rata la cosa interessante è che possiamo addirittura qualora per esempio avessimo a disposizione tutti i soldi o qualora volessimo saldare direttamente il saldo residuo accreditare ad amazon tutto quello che ci resta da pagare quindi se per esempio pago in 3 mesi le prime 3 rate la restante parte delle rate le posso pagare tutte insieme e sta cosa sinceramente la vedo veramente molto comoda anche perché mettete caso in quel momento non avete a disposizione tutti quei fondi o comunque volete un attimo utilizzarli per altre cose ma comunque quell'oggetto vi serve come a me come a cat un orologio ogni tanto e non va bene in questo modo quando volete vi levate tutti i debiti davanti no e non non devi giocare le bollette non devi fare le scommesse lasciamo questa pratica ad altre persone che sono sicuramente molto più incompetenti sai che bello si può andare proprio a niente cosa succede se però magari il prodotto lo vogliamo rimandare indietro perché o non funziona o non ci piace o qualsiasi altra cosa praticamente le politiche di reso valgono identiche e precise come se stessimo facendo l'acquisto in da una bot quindi non c'è problema sotto questo punto di vista l'unica cosa è che questo pagamento oratiare non prevede la possibilità di cambiare il prodotto ma su questo bisognerebbe un po' capire perché secondo me è un po' ambiguo quello che dice Amazon in base al prodotto secondo me che sì che non si può cambiare cioè se prendo una maglia rossa e la poliva verde non la posso cambiare ma se la maglia viene difettata invece la posso cambiare insomma questa parte qua non è proprio chiarissima insomma però concludendo la garanzia vale chiaramente qualora avessi un prodotto sostitutivo all'uguale maniera rispetto a quello che hai comprato quindi vale la stessa garanzia signori belli spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia incuriosito per poter provare questa metodologia di pagamento su Amazon che secondo me risulta veramente molto comoda e punto di forza chiaramente in Amazon perché risulta in assoluto l'e-store l'e-store l'e-commerce più forte al mondo via frate ma bezzo se non sono troppo forte come influencer per la tua azienda cioè contattami a me mi fa sul piacere detto questo qualsiasi dubbio e perplessità scrivete giù nei commenti quello che volete chiedermi se vi saprò rispondervi lo faccio con tutto il cuore anche perché sicuramente tu ti sarai andato ad iscrivere al canale la campanella cioè potete pur non iscrivervi ma attiva la campanella perché se vi iscrivete e non attivate la campanella è come se non facesse niente perché comunque non vi arrivano le notifiche quindi che senso ha attivate la campanella è importante vi farò sapere poi come andrà l'evoluzione di questo acquisto quindi restate aggiornati intanto vi saluto e se ti piace le pazze ci vedremo prossimo alla prossima ciao saluti e tante belle cose arrivederci ciao